Dal 20 al 22 settembre torna a Pesaro Incanto Short Film Festival, rassegna dedicata ai cortometraggi d'autore indipendenti che dopo l'esperimento della prima edizione di un anno fa si ripropone con un bis arricchito di contaminazioni fra cinema, musica e poesia che spazieranno fra il Cinema Solaris, il Teatro Sperimentale, Palazzo Gradari e il Municipio Pesarese. Quest'anno il festival alla seconda edizione sarà ricco di eventi, di intersezioni come ci piace chiamarle, sarà un festival sempre di cinema e di cortometraggi con delle collaborazioni sul mondo della poesia e della musica. Il festival è incentrato anche quest'anno sul rapporto fondamentale tra il pubblico che speriamo possa fruire in maniera attiva di un'opera cinematografica vista sul grande schermo, quindi ci saranno approfondimenti, incontri con vari professionisti, attori e attrici dell'ambito cinema e quest'anno abbiamo l'onore di ospitare il maestro del cinema indipendente Franco Piavoli che verrà proprio sabato 21 alle 17.30 al Teatro Sperimentale a fare un incontro con il pubblico e soprattutto ci sarà la proiezione al mattino alle 10.30 del suo capolavoro che è Vocini e il Tempo. Per la parte cinema oltre appunto il maestro del cinema Franco Piavoli che citavi abbiamo la presidente di giuria, l'attrice e regista Pilar Fogliati, abbiamo come ospiti l'attore Antonio Bannò e l'attore Enrico Borrello, ci sarà il regista Enrico Mariartale, oltre a tanti ospiti che ancora in questi giorni diciamo probabilmente ci saranno anche altre sorprese. Questo lo dico perché appunto per noi l'incontro e il dialogo col pubblico è un punto fondamentale, nel senso questo è un festival aperto in cui vogliamo portare professionisti a dialogare con il pubblico, non è un festival di settore, è un festival in cui l'incontro e il dialogo con i professionisti e con gli attori e con i registri per noi è fondamentale. Gli appuntamenti speciali sono quelli legati alla visione della poesia e quelli legati alla visione e alla musica. In particolare venerdì 20 il Laboratorio della Visione, un laboratorio stabile di visione poetica guidato da me, Olmo Calzolari e la poeta Franca Mancinelli, avrà i finalisti di un concorso nazionale a presentare le loro opere appunto finaliste per la prima volta presentate di fronte al pubblico e alla cittadinanza di Pesaro. La serata seguirà con un omaggio al poeta Franco Scataglini nel trentennale della scomparsa e un laboratorio in combinazione tra la visione cinematografica e quella poetica guidato da Franca Mancinelli e dalla regista Giulia Grandinetti. Il secondo appuntamento speciale è appunto quello che lega la musica e l'immagine legato all'associazione che coordina, coorganizzatrice del festival Anima Femmina con Frida Neri con eventi speciali quali delle performance legate alla musica e all'immagine cinematografica e un'altra in particolare sulle colonne sonore dei film. Già è la seconda manifestazione che facciamo da noi, siamo molto contenti di averli ospiti perché c'è tanta qualità e tante novità, quindi vi aspetto al Solaris.